Buongiorno a tutti, buongiorno. Mi sono appena svegliato, non mi sono ancora pettinato, però mi avevo un'idea e volevo parlarvene. Magari condividete o no, questo non lo so, ha le sue ragioni e i suoi pensieri. Vi volevo parlare del test del IQ. Io non credo tanto al test del IQ. Per me il test è un po' una cosa di fortuna. Scegli A, B, C, D, se c'è il culo hai un test positivissimo, 176, 154, non lo so, diciamo, ai valori più alti. Se non c'è il culo è un IQ basso. Ma l'IQ non vuol dire niente nella vita. Perché io ho conosciuto nel mio lavoro una persona che aveva un IQ altissimo dal test. Però in effetti l'IQ che vedevo in lui non era quello che era dichiarato. Ognuno ha lo suo modo di pensare. C'è gente che pur frequentando poco la scuola, io vedo mio padre e mia madre. Mia madre ha fatto la quinta elementare, mio padre forse anche, perché di più non c'era possibilità a quei tempi. tempi. Sono gente che si sono fatti nella vita. Hanno fatto quello che io nei miei tempi non sono riuscito a fare. Perché i tempi sono cambiati. Dopo la guerra, sono nato dopo la guerra nel 52. Dopo la guerra mio padre ha fatto la casa pur lavorando. Nel tempo che aveva l'IQ si è fatta la casa a due piani, ha aiutato altra gente a fare le case, a scopo gratuito, non per lucro. Questo è l'IQ che parliamo. L'IQ è quello che c'è nella gente, non quello che c'è nel testa. Mia madre è sempre stata una grandissima donna come intelligenza, come mio padre, pur avendo scuole basse. Io ho fatto l'industriale, io ho bisogno in Olanda. In Olanda per aver fatto l'industriale l'industriale. Sono ingegnere. Qua mi chiamano ingegneri, cioè mi chiamano. Io non mi faccio chiamare ingegnere, però praticamente sarei un ingegnere. Che non è che l'ingegnere sia universitario, no, perché quale universitario si chiama Dr. Anders. Ma io sono ingegnere. In effetti. Cosa vuol dire l'IQ? Scrivetemi cosa pensate voi dell'IQ? Perché il testo dell'IQ per me è una falsità. Magari sbaglio perché certamente potrei sbagliare. Potreste cose scientifiche, l'IQ, poi vedi le tre linee, quattro linee, cinque linee, scegli A, B, C, D. Ma le puoi scegli anche per culo. C'è la giornata fortunata che hai culo. Non credo all'oroscopo, però diciamo quello che è. sai culo. Trovi tutte le linee giuste. I numeri, B, 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 D. Bravo, D è stato giusto. scegli A, hai perso. L'IQ, ma che cazzo l'IQ c'è. L'IQ è quello che ha la gente dentro, quello che vale. non è l'IQ del test. Io ho fatto una volta un test dell'IQ. Non ne capisco sia stato un grandissimo. Però quello che ho dentro è più grande dell'IQ. Non so, magari non mi riesco a spiegare bene. chi crede nell'IQ me lo scriva e chi non ci crede mi scrivi pure sotto nei commenti. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao.